buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi il titolo di questo episodio è cartomante cartomante ho conosciuto una persona che è una cartomante la quale però si ripete quando lo faccio per me leggo le carte per me non è tanto affidabile il la tecnica e io gli ho consigliato a questa persona di ripetersi e convincere il proprio subcosciente che invece quando legge le carte a lei è molto più affidabile rispetto agli altri perché le ho spiegato che anche nella lettura delle carte sempre il subcosciente in mezzo il proprio subconscio il proprio pilota automatico senza se senza ma se tu rifletti il pendolo la lettura delle carte nella tazzina del caffè tutto a che fare con il tuo subcosciente capito come funziona è anche se capito mia madre mi diceva non lo devi dire a nessuno ma a modena si diceva tutto tutto è opinabile discutibile quindi che succede che che tu faccia la cartomante o faccia qualsiasi altro mestiere ricordati al tuo subcosciente che comanda il tuo pilota automatico il genio della lampada di aladino per cui sei tu l'artefice comandi sul tuo subcosciente se sai come funziona per fargli cambiare idea per educarlo a tuo vantaggio non contro di te per cui attento a ciò che dice ciò che pensi perché può diventare la profezia della tua vita diceva san francesco d'assisi nel 1100 dopo cristo eppure san francesco d'assisi non aveva fatto nessun corso di ipnosi non conosceva altro che la propria religione però la musica non cambia anche se l'ipnosi non è né religione né politica giungo che si sta parlando soltanto di non ripetere frasi che possono diventare la profezia della tua vita mi raccomando trasformare come fare ripetere 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 ancora ripetere 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 poi se sei pigro se sei pigra se non ce la fai eccetera eccetera o vuoi qualcosa di molto professionale utilizza degli audio mp3 dcs diplomasi dcs vera professionale che puoi scaricarti comodamente in completa anonimato in completa privacy da qualsiasi parte del mondo senza dare conto a nessuno senza vergognarti se qualcuno ti vede eccetera eccetera e cambiare il tuo destino non importa quale sia il tuo problema si può fare si fa perché il tuo subconscio ha il potere sul tuo corpo sulla tua mente sulla tua vita visibile e invisibile che chi ne dica la televisione i guru i pastori il sistema ricordati i miracoli della mente succedono ogni giorno anche se la tua ragione non riesce a capire il perché il come il dove il quando ma succedono ogni santo giorno d'accordo fammi tutte le domande del caso visita la mia il mio sito internet www.iprolegi associati puntocom iscriviti a questo canale youtube benessere i prosi soluzioni di cesser dottor cadio saracino e facer condividi con amici e parenti perché può essere quel qui da quella molla che gli può cambiare la vita visita il mio sito internet www.iprolegi associati puntocom e seguimi per favore anche su instagram e twitter e sugli altri social benessere i prosi soluzioni di cesser del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio e la prossima ciao